E' stata presentata ieri nella sede di Ucria della Banca del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi la comunità Slow Food Terra Mare Nebrodi per la biodiversità del territorio. La mattinata è iniziata con la visita guidata ai giardini in cui sono coltivate le varie specie vegetali che costituiscono un importante patrimonio di biodiversità agricola, contra le altre cose oltre 70 antiche varietà di fagioli. Nel territorio è utile avere tante persone che lavorano per la valorizzazione dei prodotti e per la conservazione della biodiversità e quindi la nascita oggi di una comunità Slow Food che ha per obiettivo proprio la valorizzazione di prodotti è per noi di straordinaria importanza anche in una prospettiva di sviluppo economico di un'area rurale che è di pregio e di valore indiscusso a livello mediterraneo. Poi il convegno aperto dai saluti del direttore della struttura Ignazio Di Gangi e dal vice sindaco di Ucria Rino Marzullo mentre a spiegare il ruolo e gli obiettivi della comunità sono stati il segretario generale di Slow Food International al Paolo Di Croce e i portavoce nazionali Francesco Sottile e Fabrizio Della Piana. Grazie a posti come questo che si preserva la memoria, la biodiversità e la ricchezza di un territorio che è fondamentale preservare ed è fondamentale utilizzare questi luoghi anche come posti di educazione, posti di conoscenza, posti di informazione. E noi come Slow Food internazionale, Italia, non possiamo fare altro che essere grati a chi si occupa di lavori come questo perché contribuiscono alla grande sfida che abbiamo da qui al futuro per garantire un mondo diverso, un mondo migliore. Infine Enzo Pruiti, presidente di Terra Mare Nebrodi, ha spiegato l'impegno della comunità per tutelare e valorizzare il paesaggio e la diversità naturale, agricola e culturale che caratterizza il territorio dei Nebrodi. Abbiamo 32 soci in questo momento che sono quelli che hanno firmato la carta della comunità. In seguito, dopo la nostra associazione, una associazione aperta, apriremo ad altri soci che vogliono intervenire e che condividono i nostri stessi pensieri per far esprimere al territorio le nostre caratteristiche e soprattutto i nostri prodotti. In conclusione, la degustazione di fagioli per dimostrare l'importante impiego in gastronomia delle varietà più rappresentative dell'area geografica dei Nebrodi.